La tappa di Così La presenza del concerto di Rene Grandi a lungo fiume Boulevard è stata la prima del suo nuovo tour. L'artista fiorentina, che fu già a Piazza dei Bruzzi per il Capodanno del 2001, si presenta in una veste nuova, proponendosi per la prima volta al suo pubblico con uno spettacolo in cui rivisita in chiave acustica gran parte del suo repertorio. Un progetto per il quale si avvale della preziosa collaborazione artistica dei musicisti fiorentini Saverio Lanza, Fabrizio Morganti e Piero Spitilli, con i quali sta affrontando anche il lavoro in studio per il nuovo album. L'atmosfera è tinta di rock, ma il sound complessivo rimane semiacustico grazie agli arrangiamenti essenziali e alla caratterizzazione sonora data dal contrabbasso. L'intero, vastissimo repertorio dell'artista fiorentina, dalle canzoni degli esordi a quelle più elettroniche, passando attraverso i brani d'autore da lei interpretati, viene così proposto come profondamente trasformato, da ascoltare come se fosse assolutamente nuovo. Da sottolineare che ha fatto da apripista al concerto di Irene Grandi il cantautore crotonese Michele Scerra, che si sta affermando come giovane eccellenza del panorama musicale nazionale. Grazie a tutti.